buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti alla nostra lettura di oggi giriamo tutto e vediamo cosa accade e cosa sta accadendo oggi abbiamo abbiamo il tarocco egizio con i nostri soliti oracolini e con questo tipo di tarocco che mi dimentico al tarocco dimentico sempre come si chiama tarocco niente indovino ecco il tarocco indovino mi dimentico sempre vabbè io alzheimer precoce da quando ero proprio all'asilo la mia memoria ottima si vede in tutto e non per niente ho inventato un metodo per non dover imparare a memoria i tarocchi perché altrimenti ero persa ma cominciamo e vediamo quali sono le energie di oggi e i miei studenti come sempre se ne hanno voglia possono esercitarsi mettendo un po in pausa e dando la loro interpretazione qui abbiamo il mago la dualità e la desolazione ok con a corona bring love into the situation cioè porta un po di amore nella situazione questo è il consiglio generale che ci danno oggi di portare un po di amore e quando dico amore non significa che dobbiamo per forza darlo agli altri ma soprattutto che dobbiamo darlo a noi stessi e questo fa girare molto meglio le ruote dei meccanismi ora il nostro mago che è colui che agisce significa che stiamo proprio per prendere iniziative o qualcuno prende iniziativa con noi non so fino a che punto sia bella questa iniziativa più che altro neutra nel senso vedo una cosa neutra vedo una cosa che dobbiamo fare una cosa che va fatta e che per molti di noi rappresenta la famiglia considerate che questa prima parte della nostra lettura può riguardare qualunque ambito della vita amore lavoro famiglia progetti eccetera eccetera la seconda parte riguarda l'amore quindi vedremo dopo il sacro maschile il sacro femminile allora questo mago o siamo noi o è qualcuno che con noi agisce per iniziare a far qualcosa che molto ma molto probabilmente per tanti di noi riguarda la famiglia riguarda le parentele riguarda dei documenti riguarda qualcosa appunto di burocratico ecco se si tratta di famiglia possono essere mille cose si può trattare di eredità si può trattare di divisione di beni si può trattare di fare accordi fra fratelli o qualunque cosa sia e dei documenti sono coinvolti se invece si tratta di altro se si tratta appunto di altro altre persone altre situazioni io direi che in ogni caso c'è qui qualcosa di burocratico comunque cioè stiamo girando intorno a qualcosa che riguarda dei documenti scritti delle cose da stabilire o stabilite da firmare o firmate e quindi riguarda in un certo senso qualcosa che noi stiamo facendo potrebbe riguardare benissimo il nostro lavoro quindi iniziare un progetto nuovo firmare un accordo firmare una collaborazione un nuovo un nuovo contratto di certo questo è l'inizio di un qualcosa che in teoria non finisce qua ma è l'inizio di un qualcosa che potenzialmente dovrebbe andare avanti ma sono curiosa vedrò nei commenti di che si tratta poi voi sapete ragazzi che i vostri commenti servono a chi si esercita con queste stese quindi fateci sapere cosa sta accadendo la seconda carta è la dualità che porta all'esito quindi dualità in questo senso la dualità è un un riuscire a osservare con distacco la differenza fra bene e male la differenza fra giusto e sbagliato quando noi riusciamo ad osservare con più distacco quindi con più lucidità la differenza fra giusto e sbagliato nelle nostre azioni ecco che all'improvviso arriva l'esito arriva il risultato positivo e possiamo anche dimenticare certe cose del passato possiamo dimenticare quello che magari ci ha fatto male quello che poteva servirci in un certo momento ma adesso non ci serve più sì o comunque quello che accade è talmente tanto piacevole che davvero per un attimo per un po ci fa dimenticare altro ci fa dimenticare le cose che non vanno e che non andavano e il successo fa spesso questo effetto quando noi abbiamo un attimo di gioia quando noi abbiamo un attimo di quando ci sentiamo realizzati riusciamo effettivamente a alzare la nostra vibrazione la nostra frequenza quindi il nostro campo energetico bello bello allegro bello vibrante amplio perché poi il campo energetico del nostro corpo si amplia quando noi stiamo bene mentre invece si restringe quando noi stiamo male e questo è una delle cose che porta appunto a definire se stiamo in salute o se siamo malati perché un campo energetico bello vibrante amplio è un campo energetico sano che porta anche alla salute fisica un campo energetico ristretto contratto magari dalla paura dallo stress da tutte queste robe invece porta a malattia e se noi fossimo dei chiaroveggenti capaci di vedere cosa accade appunto al campo energetico quando noi stiamo male vedremo come il flusso non gira bene non gira in maniera coerente costante ma più che altro si formano come dei vortici come dei dei torn come si chiamano torn comunque come se ci fossero dei vortici di dei punti nel nostro corpo energetico dove l'energia se ne va per i fatti suoi inizia a girare male inizia a creare delle forme strane dei blocchi ecco lì ci si ammala ci si ammala e allora no invece noi in questo momento abbiamo davvero l'esito abbiamo davvero il risultato ed è un risultato positivo ed è un risultato che ci permette proprio di dimenticare altro di dimenticare certe cose sembra anche che per qualcuno potrebbe essere un momento piacevole perché magari state per acquistare qualcosa o state per acquistare una casa un'auto un qualcosa che vi piace ed ecco che quello rappresenta per voi un attimo di felicità quello vi riesce a dare questo buon umore e vi permette di dimenticare il resto come ultima carta però abbiamo la desolazione e cioè la desolazione con il carro rovesciato è proprio il segnale che non possiamo andare in quella direzione non dobbiamo andare lì dove noi pensavamo di dover andare le campane semmai ci stanno avvisando di qualcos'altro di un'altra parte di percorso che noi dobbiamo e possiamo fare se vogliamo qui considerando che stiamo proprio parlando di dualità è molto semplice capire come emozioni così contrastanti possono stare insieme parlando di dualità noi abbiamo l'esito ma abbiamo la desolazione per molti di noi si tratterà di un qualcosa che da un lato da ci da e dal lato ci toglie quindi da un lato ciò che sta accadendo ci arricchisce e ci fa star bene dall'altro lato invece ciò che sta accadendo ci ci toglie qualcosa ci fa capire che dobbiamo rinunciare a qualcosa ad andare in quel percorso dobbiamo rinunciare quello che dobbiamo fare ascoltare queste campane e capire invece che cosa ci stanno dicendo per cosa ci stanno avvisando perché essere maghi e avere la possibilità di agire significa avere tutti gli elementi della natura dalla nostra parte e significa tra parentesi avere anche tutti gli elementali della natura dalla nostra parte gli elementi e gli esseri elementali come undine fatine salamandre gnomi sono esistono per servire l'essere umano così come anche gli angeli e i demoni in realtà esistono per servire l'essere umano queste entità sono state create tutte da dio per servir noi perché siamo noi che abbiamo un certo compito siamo noi che conteniamo all'interno di noi del nostro corpo energetico delle frequenze delle della materia sottile delle cose che gli altri non hanno il nostro corpo energetico non è uguale al corpo energetico di un angelo così come non è uguale al corpo energetico di un gnomo quindi la differenza fra noi e gli gnomi noi e gli angeli non è solamente che noi abbiamo il corpo fisico e loro non ce l'hanno ci sono anche altre cose che noi abbiamo il loro non hanno qualcuno definisce questo qualcosa con il termine di anima qualcun altro invece no diversi autori usano questo termine in modo diverso fatto sta che anche se voi volete considerare che ogni cosa ha un'anima come dicono gli animisti l'animismo è una sorta di religione la più antica suppongo una delle più antiche sul pianeta per cui appunto si crede che tutto abbia un'anima va bene è giusto perché tutto ha un corpo energetico ma di questo corpo energetico l'essere umano ha un pezzettino che altri non hanno quindi qualcosa in più fa parte di questo corpo energetico allora in questa dualità torniamo un attimino alla nostra discussione se noi con il mago abbiamo tutti gli elementi a nostra disposizione pronti a ubbidire i nostri ordini ma quello che stiamo per fare da un lato ci apre una strada e da un altro lato ce ne blocca un'altra e forse forse quello che dobbiamo capire è come usare questi elementi nel modo corretto e quindi ecco che l'universo ci sta mostrando come dobbiamo usarli e come non dobbiamo usarli questi questi elementi cosa dobbiamo farne cosa non dobbiamo farne quale parte della nostra vita o dei nostri progetti dobbiamo dimenticare e invece dove dobbiamo cercare di proseguire sono davvero curiosa oggi di capire di cosa si tratta chi risuona con queste energie perché risuona con queste energie che cosa gli sta accadendo in che cosa questo senso di dualità si vede cioè come il bene e il male stanno convivendo nella vostra vita provocandovi allo stesso tempo piacere e dolore quindi qual è questo qualcosa che sta accadendo che sta riuscendo a provocare in voi emozioni così contrastanti contemporaneamente ma adesso andiamo a vedere i nostri le nostre energie del sacro maschile e del sacro femminile quindi caliamo giù la nostra tendina che cosa sta accadendo al maschile allora uomini e donne che state canalizzando un'energia più maschile c'è altro in arrivo per voi quindi pensavate di avere finito invece no c'è ancora altro in arrivo per voi perché una certa persona no qua siete anche voi però è qua siete anche voi che non sapete ancora esattamente che cosa volete e se non sapete esattamente cosa volete l'universo vi manda anche altro per farvi vedere per mettervi davanti agli occhi diverse cose diverse opzioni per farvi capire appunto che cosa volete il consiglio è quello nel frattempo di non essere sdolcinati perché comunque nel frattempo non dovete per forza piacere a qualcuno non dovete per forza mostrare il vostro lato migliore il vostro lato più positivo cioè lasciate perdere le cose troppo sdolcinate se sta soprattutto a quegli uomini o a quelle donne che si riflettono in un'energia più maschile e che stanno avendo tresche sul posto di lavoro state attenti a non essere sdolcinati sul posto di lavoro questa è proprio una regola stampatevela scrivetevela davanti al fuori dal frigorifero attaccatela con la con la calamita c'è semmai aspettate appunto di vedere che cosa in arrivo per voi e chiaritevi le idee grazie a quello semmai questo dovrebbe essere il percorso giusto potrebbe potresti anche conoscere qualcuno nuovo proprio sul posto di lavoro e quale cose si fanno interessanti e allora se arrivano nuove conoscenze non siate subito sdolcinati anche questo è un insomma un po un avvertimento ma andiamo a vedere il nostro femminile allora il nostro femminile sembra che stia diventando molto coraggioso molto coraggioso e sta cominciando anche a parlare di più e a dire di più quello che prova quello che sente quello che è giusto quello che non è giusto il femminile sta cercando di proteggersi non ha paura in realtà ha smesso di avere paura ma continua comunque a mantenere quella quella sorta quel senso di autoconservazione di protezione quindi io non ho paura ma se so che tu puoi farmi del male facendo così e cosa io ti impedisco di farlo non ti do lo spazio per farlo non ti do la possibilità anzi se c'è qualcosa che non mi va bene mi lamento lo dico chiaramente non ho nulla da nascondere né a te né al mondo che mi circonda quindi se qualcosa mi fa male io lo dico sia a chi mi sta facendo del male sia a chi mi circonda perché non devo proteggere l'immagine di nessuno e se in tutto questo sto vivendo ritardi e distrazioni va bene va bene ok nel frattempo appunto nel frattempo dico la mia e non di certo non faccio finta che sia tutto a posto questo è il l'atteggiamento del femminile in questo momento la cosa più bella è appunto il superare le paure andiamo adesso a vedere il nostro oracolo angelico che cosa ha da offrirci dunque vediamo un po che cosa sta accadendo e intanto se volete una sessione privata o un pacchetto che comprenda life coaching o analisi carmica delle vostre vite precedenti potete o prenotare dal sito o mandare un email invece se volete informazioni sui video corsi senza nessun impegno ragazzi inviate un whatsapp e noi vi risponderemo vi contatteremo tre di terra o bene le ricompense arrivano il riconoscimento per quello che abbiamo fatto arriva se abbiamo anche fatto in qualche ambito della nostra vita gioco di squadra un buon gioco di squadra quindi siamo riusciti anche a collaborare bene con gli altri a entrare in sintonia con il lavoro degli altri ad aiutarci a vicenda questo è molto importante in questo momento è proprio una delle cose che ci vengono riconosciute una delle cose belle che la gente vede di noi e anche fare un buon gioco di squadra significa per qualcuno anche allontanarsi al momento giusto cioè il gioco di squadra è se io all'interno della mia squadra all'interno del mio gruppo di anime con cui sto lavorando insieme per imparare una lezione o più lezioni vedo che creo la mia presenza crea più scompiglio che altro io mi metto di lato per un momento per un periodo anche questo è fare gioco di squadra e qualcuno di voi lo ha fatto e quindi ecco che avete fatto gioco di squadra senza nemmeno rendervene conto però la ricompensa arriva la ricompensa arriva se non è già arrivata sta arrivando quindi qualcuno che potrà ringraziarvi qualcuno che potrà dirvi quanto siete stati utili qualcuno che potrà anche farvi notare come siete stati da esempio perché poi alla fine è questa la cosa è questo il modo migliore per insegnare qualcosa in questi anni da quando appunto mi occupo di crescita personale e non più di biologia ho capito proprio questo che a volte parlare non serve soprattutto con le persone che ci sono più vicine e che quindi non ascoltano i nostri consigli o quello che diciamo ma piuttosto fare vedere con l'esempio che cosa possiamo fare e che cosa gli altri possono fare facendo comportandosi nello stesso modo in fondo se ci pensate è il modo in cui i bambini imparano dai propri genitori per lo meno fino ai primi sette anni si apprende quasi esclusivamente così con l'esempio cioè non è che un bambino fa quello che voi gli dite perché glielo dite il bambino fa quello che gli dite perché voi fate la stessa cosa quando siete nella stessa situazione e il bambino diventa un adulto simile a voi simile ai genitori prendendo un po di qua e un po di là proprio perché li imita ai genitori quindi date l'esempio e sarà veramente il modo migliore per aiutare gli altri a capire a fare meglio ma anche per essere voi riconosciuti per avere voi il vostro la vostra piccola soddisfazione di sentirvi dire bravo brava e con questo ragazzi spero come sempre anche oggi di esservi stata utile vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo alla prossima ciao